invece questo qua buongiorno per il canale youtube solo pittura di massimo latanzi stamattina unboxing abbiamo appena scartato un airless piccolo airless per interni allora qui abbiamo diciamo la parte più importante della macchina staccare codesto svitare perché all'interno di questo abbiamo il filtro quello più sottile di tutti eccolo qui un ricambio di questo costa 4-5 euro è una stupidaggine e comunque c'è una durata veramente lunga a un verso non potete metterlo al contrario va infilato qui nella sede e basta tutto qua ok vabbè poi al montaggio ne fanno un altro seguirà il montaggio grazie mille grazie mille grazie mille